Bella a tutti ragazzi sono FactorMode dei Fazclan Oggi sono qui per farvi vedere uno spawn trap di shipment su Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered Questo glitch consiste nel stare dietro il cassone in basso a sinistra della mappa Che la mappa l'avete vista all'inizio del video E sparare attraverso il cassone che è torto Con il pezzo della rally che vedete nel video ci capirete di cosa sto parlando Se voi state lì e avete conquistato ovviamente C Dovete conquistare C perché se no non funziona Se starete lì a sparare uccidirete un casino di gente Adesso io nel video uccido una persona ma non state a guardare quello Era un momento che avevamo appena sparato l'aria di aereo quindi non c'entra niente Niente questo è uno spawn trap da fare con altra gente Se lo fate se volete farlo in uno contro uno Lo spawn trap mi farò un altro video dove vi mostrerò come seguire spawn trap facilmente Burlandovi dei vostri amici perché creerete un doppio spawn al posto che un quadruplo 5 spawn penso che ci sono in questa mappa Niente bella a tutti ragazzi Un saluto da Factor Mode